Stava lavorando a 15 metri di altezza la manutenzione del tredicesimo pilone della seggiovia che dai piani alti di Ornella sale al passo Padon nel bellunese, quando è rimasto impigliato nel sistema fune-carrucola. A perdere la vita Massimo Crepaz, 57 anni di Livina all'ongo del col di lana. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta nella tarda mattinata lungo l'impianto di risalita attualmente in ristrutturazione. Sul luogo nei pressi del rifugio Padon a 2.407 metri di quota anche l'elicottero del Suam 118 ma per l'uomo non c'era più niente da fare. Per recuperare la salma è stato necessario l'intervento dei tecnici del soccorso alpino. Secondo una prima ricostruzione il moschettone dell'imbracatura di sicurezza sarebbe rimasto impigliato alla fune dell'impianto che risalendo lo ha strascinato contro il pilone fino a schiacciarlo. La dinamica dell'incidente al vaglio dei tecnici dello Spisal, dell'Ulss 1 Dolomiti e dei carabinieri di Cortina coordinati dalla procura di Belluno che ha aperto un fascicolo. Massimo Crepaz, dipendente della società Funivia Rabba, lascia la moglie e due figlie, una delle quali lo aveva già reso nonno. Per una terribile coincidenza anche il padre del 57enne che lavorava per l'ANAS era rimasto a sua volta vittima di un incidente sul lavoro all'inizio degli anni 70.